Il governo israeliano si piega alle proteste di piazza e annuncia il rinvio della riforma della giustizia. Ho deciso di sospendere l'avanzamento della legge in questa sessione della Knesset per dare tempo ai negoziati e all'accordo, ha dichiarato il primo ministro di Israele, Beniamin Netanyahu, che ha però anche aggiunto di non voler rinunciare a portare avanti il provvedimento, l'ipotesi, la ripresa dell'esame durante la sessione estiva della Knesset. L'annuncio del governo ha convinto il più grande sindacato del paese a revocare una uno sciopero generale che rischiava di paralizzare l'economia israeliana. La dilazione è stata accolta con favore anche dal presidente del paese, Isaac Herzog, che ha esortato tutti a mostrare responsabilità. Il principale leader dell'opposizione, Yair Lapid, si è detto pronto a un vero dialogo.